Presentato questa mattina presso la Sala Cirillo di Piazza Matteotti, il Piano Strategico Metropolitano per la Manutenzione e Riqualificazione degli Edifici Scolastici. Un programma di finanziamenti che prevede interventi consistenti anche in diversi istituti della città, tra cui il convitto Vittorio Emanuele, i licei Sbordone e Pansini e l'investimento di risorse per lavori a strutture sportive a supporto delle scuole come la Scandone e il Palavesuvio. Oggi abbiamo parlato di scuole, un altro giorno di strade. Vogliamo far conoscere alle nostre comunità, 92 comuni, Napoli comprese, il lavoro enorme che si sta facendo in settori strategici. Per esempio le scuole, da quando sono sindaco della città metropolitana, è il più imponente finanziamento pubblico per l'edilizia scolastica, sia nel bilancio ordinario della città metropolitana sia nel piano strategico. Insieme ai comuni abbiamo individuato ulteriori opere da finanziare e come città metropolitana abbiamo messo in campo un piano di investimenti di circa 300 milioni di euro, di cui 100 milioni alla città di Napoli.